La fiducia alla Cina nell'emergenza contro l'epidemia è stata espressa dal Presidente Mattarella. Il governo e il popolo cinese, ha detto il capo dello Stato, possiedono capacità per vincere la battaglia. Nadia Zikoski. Un concerto offerto dal Quirinale per l'Anno della Cultura Italia-Cina 2020 diventa occasione di ricucitura diplomatica, un modo per esprimere amicizia e preoccupazione davanti a pregiudizio e intolleranza. L'Italia esprime fiducia e sostegno alla Cina nell'emergenza contro l'epidemia, nell'impegno per assicurare la sicurezza sanitaria anche internazionale. Abbiamo un amico comune nell'epidemia in corso. Un concerto al quale il Presidente cinese invia un messaggio. La nostra battaglia contro l'epidemia è rigorosa e responsabile. Ha apprezzato Xi Jinping i gesti compiuti da Mattarella negli ultimi dieci giorni. Il messaggio con l'offerta di aiuto, la visita sorpresa una settimana fa in una scuola multiculturale romana, frequentata dalla comunità cinese più popolosa della capitale. Fino all'ultimo gesto, quello di questa sera, Xi Jinping ringrazia con poche parole di congedo. Le difficoltà sono temporanee, scrive a Mattarella le amicizie. Nessuna impennata nella diffusione del virus, l'OMS era sicuramente...